Ore Cost 2018, ci troviamo allo stand di Maurizio Russo SRL, un'azienda amalfitana arrivata alla quarta generazione e che, pensate, il prossimo anno festeggia ben 120 anni di attività. E siamo in compagnia di Gianluca Russo, il direttore commerciale. Gianluca, benvenuto sugli schermi di Orecatv.it Grazie, grazie dell'invito sugli schermi. La nostra azienda ha più di 100 anni, qualcuno scherzando dice me li porto bene, oltre 100 anni, ed è un'azienda a carattere familiare, è stata fondata dal nonno di mio padre e io ho l'onore di rappresentare la quarta generazione. Dove si trova l'azienda? L'azienda si trova a Cava dei Tireni, che è una delle 14 città della costiera amalfitana. Ovviamente tra il core business, il prodotto di punta che la nostra azienda ha, c'è il limoncello. Naturalmente il limoncello nella vostra produzione non può assolutamente mancare, però voi realizzate tante altre bellissime e ghiottissime cose. Sì, la nostra azienda ha puntato tutto sulla qualità e sull'innovazione. Da due anni abbiamo lanciato un prodotto che sta spopolando, che è Bu, un prodotto realizzato con latte di bufala. Il latte di bufala è un'icona del prodotto made in Campania e abbiamo realizzato tre liquori dove la base è rappresentata da latte di bufala. E questa idea da dove nasce? Nasce dal fatto che noi nel passato già abbiamo fatto delle creme con latte di mucca. Abbiamo detto perché non facciamo un test con quelle di bufala, visto che oggi la bufala è un'eccellenza riconosciuta da tutto il mondo. E così è nata l'idea. È partita tre anni fa, un anno di sperimentazione e due anni fa siamo usciti con il prodotto. Immagino abbia avuto un successo davvero significativo. Ha avuto successo al di là delle nostre aspettative, perché oltre al liquore che già di per sé ha un grande successo, dopo il liquore è nato il cioccolatino, poi è nata una mousse al limone, è nato un gelato e dall'anno scorso in collaborazione con il salderiso è nato il panettone e quest'anno in prossimità di Pasqua presenteremo la colomba. Io direi che altro che Irish Coffee. No, no, è andato, ripeto, al di là delle nostre aspettative. Anche perché poi è un prodotto innovativo, è un prodotto che racchiude in sé varie eccellenze, perché dei tre gusti che abbiamo fatto, due sono strettamente legate al territorio, in quanto abbiamo una crema di limoncello, quindi limoncello e latte di bufala, e una crema dove c'è grappa daglianico, altra tipicità, campana, cacao con latte di bufala. Già Luca, OreccaTV.it non è presente solamente su base nazionale, è uno strumento che può essere visto in tutto il mondo, per cui indipendentemente dalla vostra collaborazione con il partner di turno, cioè Lamberti Food, c'è chi magari guarda l'intervista e vuole avere maggiori informazioni sui vostri prodotti. In che modo è possibile scrivervi, prendere un contatto commerciale, avere maggiori informazioni sul prodotto senza alcun impegno? Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere? L'indirizzo di posta elettronica è clienti.gocciola.mauriziorusso.it, basta andare sul nostro sito che è www.mauriziorusso.it o sulla pagina Facebook che è Maurizio Lusso di Cuori. troveranno sia i cataloghi che possono scaricare, sia tutte le informazioni sui prodotti già esistenti e sulle novità che andremo a fare nel prossimo futuro. Gianluca, grazie, ne parleremo ulteriormente attraverso i nostri strumenti orecanews.it, il quotidiano di informazione digitale dedicato al fuoricasa e naturalmente orecatv.it. Ciao Gianluca, saluto a tutti loro. Buona serata a tutti e alla prossima manifestazione. Alla prossima intervista, nel frattempo dico io a voi. Restate lì perché abbiamo ancora qualcosina da mostrarvi. a voi. No, no, no. Grazie a tutti.